Sanità all'Asp, 7 medici firmano contratti per l'area di emergenza. Entrano in servizio nell'area di emergenza e urgenza dell'Asp di Siracusa con incarichi libero professionali i primi 7 medici facenti parte della prima tranche di istanze presentate nella prima settimana di pubblicazione dei bandi aperti disposta dal commissario straordinario Alessandro Caltagione per fronteggiare la grave carenza di medici che è stata riscontrata soprattutto nei servizi di emergenza e urgenza ospedaliera e in tutti i servizi dell'area medica. Nella sala riunione della Direzione Generale Aziendale si è svolta la cerimonia per la firma dei contatti preseduta dal manager Alessandro Caltagirona. Sottoscrivere i contratti sono stati 4 medici in possesso di corsi BLSD e PBLSD e 3 medici specializzanti che fanno parte del primo gruppo di assunzioni e affidamento di incarichi deliberati la scorsa settimana formato da 4 dirigenti medici assunti a tempo indeterminato, 2 a tempo determinato e 9 libero professionali di cui 3 specializzanti. Seguiranno nei prossimi giorni le altre firme di contratti e le emissioni in servizio mentre sono in corso le attività delle commissioni a seguito dell'ammissione di 12 candidati in possesso dei requisiti al concorso per 16 posti a tempo indeterminato per dirigenti medici di pronto soccorso. Intanto sono state completate le convocazioni di tutti i dirigenti medici che hanno presentato le istanze nella prima settimana mentre avrà inizio da domani l'attività delle commissioni che si dovrebbe concludere il 14 marzo per formulare le graduatorie dei professionisti a tempo determinato che hanno presentato le domande dalla seconda settimana in poi e quelle per graduatori e colloqui per gli incarichi libero professionali che saranno impiegati secondo il fabbisogno aziendale. Grazie. Grazie. Grazie.